Ehi persone fighe! Come già molti di voi cervelloni avranno già capito, in cima alla mia lista di seghe preferite c'è Final Fantasy. Tempo fa feci un video dove mostravo il mio cattivo e brutto disprezzo per il tredicesimo capitolo della saga. Quel gioco è bello quanto qualcosa che non lo è. Ma una delle fortuna, a mio parere, di Final Fantasy, e dico a mio parere perché molti questa la vedono come una cagata, è il fatto che ad ogni nuovo capitolo della saga, mondo, personaggi e sistema di gioco cambiano, talvolta soprattutto il gameplay, radicalmente. Un fattore per me decisivo, visto che realizzare una storia da zero ogni volta è un lavoraggio, soprattutto oggi che non può permetterti di saltare nessun dettaglio. Comunque è sempre bello stare a vedere che bella e nuova storia per noi pronta la Square. Ma poi, arrivò l'anno del cataclisma. 2-0-0-SCHIFO! La Square si era così tanto innamorata del suo ultimo successo, che al tempo era Final Fantasy X, che decise di farne un seguito chiamandolo in maniera simpaticona Final Fantasy X 2. Necessario? Non necessario? Beh, parleremo di questo in un altro video dove andremo davvero in fondo alla questione. Per ora potete solo sapere che per me questo gioco è l'emblema di andare in bagno e usare il proprio risultato anale come gioco. Vi spiego meglio, quando ancora oggi mi chiedono che cosa ne penso di Final Fantasy X 2, e rispondo ho comprato Final Fantasy X 2, ma dentro ci ho trovato Sailor Moon a casa. Ma togliendo questa nota individuale. Io, come penso molti, sono dell'idea che il bello di un gioco lo fa anche l'interpretazione personale di cosa è successo prima del gioco e cosa succederà dopo il gioco. Cazzo, la community di Final Fantasy è piena di gente che ama inventare storie riguardo il chissà dopo, o il chissà prima e alcuni il chissà mentre. Ironicamente non esiste nome meno azzeccato per Final Fantasy, visto che non solo è una saga apparentemente infinita, ma anche dopo la fine di un capitolo i fan ci costruiscono un mondo intorno. Che bello! La Square ha mandato questa a fanculo quindi per fare il seguito del X. Per me è gioco dalla trama perfetta. I... il X, no il seguito. Ma non si fermò qui. No, 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 troia. Passarono gli anni e uscì il tredicesimo capitolo. Abbiamo dovuto ingurgitare un bel po' di zucchero per mandare giù questa pillola, ma vabbè il male passò veloce. Poniamo le nostre speranze sul prossimo Final Fantasy. Ma non era così semplice. Lo stesso anno la Square Enix fece sapere a tutti che al progetto Fabula Nova Crystalis, che per chi non sapesse è un raggruppamento di gioi che anche se differenti, legati da miti, leggende e culture orientali simili, verrà aggiunto un nuovo titolo. Il titolo seguirà le gesta dei protagonisti di Final Fantasy XIII. No, 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 no! Non questo di nuovo, non lui di nuovo, ma soprattutto, non lei di nuovo! Dopo la notizia molte persone del mondo cercano di pugnalarsi gli occhi per svegliarsi dall'incubo, ma cazzate, era tutto vero. Final Fantasy XIII 2 sarebbe stato il nuovo capitolo della saga. Santa Madonna Vergine, salva ceuto ciò che è errato e horrido in questa notizia. Ho spolpato questo gioco abbastanza da potervi dire che se il XIII era una merda, questa è una merda mascherata. Un gioco zeppo di illusioni e tornado di finti miglioramenti e false promesse Questo gioco vi dico è merda già dal trailer Dove ritroviamo la plurilesbo lightning, ora cavaliere dello zodiaco Che deve fronteggiare un tizio scuro Bugia numero 1 Nel gioco, se non per i primi 3 minuti Dove non capisco perché ti facciano giocare una cacata senza unico Senza fare un solo filmato Non giochi nei panni di lightning Ma di sua sorella, che se prevale in femminilità perde in motivazione Sapete perché? Beh, permettiamo che la storia si basa sull'andare nel futuro per cambiare il passato E viceversa, questa ragazza scopre All'inizio del cazzo di gioco Che questo è possibile Per molte volte il suo caro amico Noah Spiega che questo non solo è possibile Ma necessario per salvare lightning E perché no il mondo intero Serra capisce che non è sincero Eppure per tutto E non un quarto E non metà E non tre quarti Ma tutto il gioco Sta zingara si lamenta del fatto che Chissà se riusciamo a salvare il passato Chissà se è possibile salvare il futuro Chissà se è possibile salvare questo gioco La risposta è sì per tutto Tranne che per l'ultima domanda Pensate che nonostante alla fine del gioco Dove la protagonista finalmente si convince di potercela fare Ancora dubita Decisa ancora a mostrare quel che è di comportamento Pseudo timido giapponese Che diciamo la verità Sta davvero sul cazzo Lightning poteva essere stata graziata Col dono del ciclo infinito Ma almeno un che di determinazione c'era La sorella è protagonista del gioco Non ha niente di tutto questo E il gruppo va solo avanti Grazie a Noah Il ragazzo del futuro Che nonostante sia un po' combattuto Riesce comunque a mostrare una certa audacia Parlando d'altro Vorrei concentrarmi su tutto quello Che ho sentito elogiato Riguardo a Final Fantasy 3C2 Che a mio parere è pura merda Una grande differenza È che un grande intendo piccolo e miserabile Fra Fufo 13 e Fufo 13 2 È che in questo gioco Rullo i tamburi Ok basta rullo perché non lo merita È che in questo gioco C'è l'esplorazione Yeah Pugia numero 2 Se ricordate nel 13 Una delle più grandi polemiche Era che si trattava semplicemente Di un grande corridoio Con davvero poco da fare Giustificato da un'unica landa vasta Su cui vi si trovavano quasi tutte le quest secondarie Se possiamo essere così generosi nel gergo È che gli elementi platform Così tanto romessi dalla Square Enix Riguardavano piccoli punti scriptati Per farti saltare Se quando ci passavi su Prima vi cerchio Oddio platform Se non mi scrivevate Fare un fantasy nel titolo Avrei pensato Si trattasse di un remake di Crash Wow Quanto platform Ma i ronni è spiccioli a parte Il 13 2 A mio parere segue questa strada Semplicemente mascherandosi Come il gioco dove l'esplorazione È stata implementata Quando non è vero Il viaggio nel tempo Ti permette è vero Di raggiungere tanti luoghi In tante aree diverse Ma posti che gira e rigira Sono tutti E non esagero Sono tutti chiusi Non succederà mai Che finito il limite di una zona Ne raggiunge un'altra Ora commentate Marco Sei stronzo se erro Ma esplorazione E senso di esplorazione A mio parere In un gioco rappresenta La sensazione di movimento Che il giocatore prova Ne raggiungere un posto Alla fine di un altro E ritornare in quello di prima All'inizio di quest'ultimo Cambiamento di scenari Musica Ecosistemi È inutile creare luoghi Semplicemente più larghi Di quelli del 13 Se poi sono pacchetti Che usi su se stessi Dove al massimo Se giri l'angolo Trovi pozione O altri oggetti inutili Uno perché sono acquistabili E due perché sono inutili E vorrei mandare Un fanculo particolare A tutti quei zero Che nel mio precedente video Commentavano Marco ma vedi Che non hanno messo I negozianti Su Final Fantasy 13 Perché i protagonisti Sono ricercati E quindi nessuno Vuole parlare con loro Perché sono ricercati Sono ricercati Beh dritto nel vostro culo Cugini In questo gioco Dove ci sono città E persone con cui parlare Hanno creato Solo un negoziante Che ti segue In tutte le ere Uno Uno solo Uno solo Uno Hai messo città Hai messo persone Hai messo altre cagate Mi dai un negoziante Non prendetemi in giro Santo Dio Negoziante vorrei dire Che cambia equipaggiamenti E roba acquistabile Solo nove volte Nel gioco Non so se ci avete fatto caso Faccia di schifo Un negoziante Che cambia inventario Nove volte Certo Venitemi a dire Marco e gne 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 Adesso Stronzi Sempre riguardo L'esplorazione Una cosa che hanno dato Di Fuffo 13 Due Che qui si salta Saltiamo Da tutte le parti Voi prendete in giro Ma guardate che Inserire il salto In un RPG Soprattutto Coltive idee di rottura Di limiti Davvero davvero grandi Aumentare l'altitudine Che il personaggio Può raggiungere Solo con un tasto E il primo passo Per rendere l'esplorazione Degna di questo nome Peccato che Muggia numero 3 In questo gioco Saltare serve Sì e no a un cazzo Anzi Sì e sia a un cazzo Perché inserire La possibilità Di saltare In qualsiasi momento Se poi per saltare Da un luogo all'altro Ci sono sempre I cazzo Di cerchi luminosi Scriptati del 13 Nel senso che Fuori da quei cerchi luminosi I salti Non servono Sapete quante volte Ho provato a vedere Se quella cima Posso raggiungerla Saltando non da quel cerchio Troppe E il risultato Non si può A meno che non sei su un ciocopo Tu puoi prendere il tasto cerchio E infilartelo su per il culo Questa ragazzi È una presa in giro Delle più grandi Perché creare una finta Sensazione di esplorazione Inserendo un pulsante Che solo in certe situazioni Di effettivamente utile Sapete quante volte Ho utilizzato il tasto salto Per andare avanti nella storia Le ho contate 3 3 3 Togliendo l'ultimo orizzonte Dovevo raggiungere le piattaforme Solo saltando In tutto il gioco Ho utilizzato il salto E intendo quello non ho scriptato Per andare avanti nella storia Carriitori Bugiardi e stronzi Vergogna Ma andiamo a guardare Quello che è stato promesso Il cambiamento number one Di Final Fantasy XIII 2 Il sistema di combattimento Che dai Nonostante sia identico A quello di Final Fantasy XIII Adesso la Square ci promette Almeno 109 tattiche Da poter utilizzare Wow Una centinaia di nuovi modi Per combattere Cosa vorrà mai dire Bugia numero 4 Da un po' Mi imparò a tradurre Quello che dice la Square Vi spiego Siccome sono tolti la fatica Di creare nuovi personaggi giocabili Che non siano Noel e Sera I nostri amici della Square Hanno fatto si Che gran parte del bestiario Sia catturabile Perché non giocabile Wow Mettere tutto questo Su Square Enix traduttore Ed esce fuori Ottieni il mostro più forte Delle aree raggiungibili Al momento E usalo per un quarto di gioco Finito quel quarto Cattura in un altro E utilizza gli altri Solo per l'infusione Di abilità da un mostro all'altro Che cani malati E bugiardi del cazzo L'unica super strategia Che intendevano loro Tratta che adesso Ogni mostra le sue specialità Attaccante Terapeuta Occultista eccetera eccetera Quindi puoi creare matematicamente Tante combinazioni Centinaia di combinazioni Ma non lo farai Perché dimostri effettivamente potenti Da usare Ne esistono davvero pochi O comunque pochi Che possono soffrire Di un limite di livello Abbastanza alto Da essere considerati davvero forti Ah vogliamo parlare di boss Createmi tanti boss Da sconfiggere Rendeteli diversi Cazzo negli discorsi Fufu Ci sono caterve Di boss sempre più grandi E cattivi E diversi in tutto Qui ce ne sono davvero pochi Ragazzi vogliamo parlare Del parco giochi Casino dentro il gioco Ricordate quando l'hanno annunciato Nel Tokyo Game Show Parlandone come un ritorno Della vecchia gloria Che sta nel Goldshauser Io amo ste merdate Non vi nascondo Che mi ero già abbassato i pantaloni All'idea Ma giocando Ho notato quanto siano stati Figli di troia Paragonare il Goldshauser Alla merda qui Parco giochi con tre giochi Tre giochi Tre giochi Di cui uno di questi È acquistabile Al Playstation Network Per poi trovare il corso E ciò Ho realizzato una merda Facili ad ogni corso E non paragonate A quelle del 7 Che anche io Le trovo una cagata inutile Ma sapete Col tempo mi aspetto Un che di Come si chiama Evoluzione Evoluzione qui Assente Ma vabbè Proprio come succedeva nel 7 Se davvero tutti i minigame Ti annoiano Puoi sempre provare l'arena Però a differenza Che nel 7 Non dovevi scaricarla Pagandola Parco merda L'arena del cazzo Saranno anche extra Ma la Square Li ha sempre intesi Come inclusi In un Final Fantasy È gratis Perché utilizzare I datimenti del mercato Adesso per macchiare di peccato Questo cocktail Già colmo di peccati E blasfemie Che ha già infranto Le tavole dei comandamenti Da seguire Per creare un Final Fantasy Decente Ragazzi Io mi sono stancato Mi sono stancato Di stare presso per il culo Davvero Meglio spendere questi soldi Per alcol Drogo O altre cose così Cose che ti prendono Meno per il culo Di quanto lo faccia la Square Perché assisterà a questo? Questo gioco è una bugia È una maschera Che copre il disastro Iniziato dal 13 Che nonostante sia merda Te lo dice in faccia Che è una merda E non so voi Ma io amo la sincerità Questo gioco invece È ipocrita È falso Non sincero Quando ho rivisto Vanilli In sogno Che mi diceva di svegliarmi Ho sentito un'orrende Strana nostalgia del 13 Mi ha fatto capire Che al peggio Non c'è limite Che la mia testa ormai Preferisce abituarsi allo schifo Che c'è ora Invece che continuare a sperare In un futuro per Final Fantasy Che non è poetica come frase Non è romantica È solo vera Mi stanno sul cazzo Le persone continuano a dare A quelli come me dei nostalgici Intendendo la nostalgia Come malattia Notifica per voi Deste di zero Mettete nostalgia su Wikipedia Per scoprire che si tratta Di malinconia e tristezza Nata dal ricordo di cose belle Adesso assenti Quindi smettiamola Di creare menzogne Di fabbricare bugie Di profetizzare ipocrisia E Square Enix Perché se prendi una merda La metti in un bicchiere di cristallo E la ricopri di zucchero filato Prova ad assaggiare Continuerai a sentire un sapore Che non fa strano Ad essere ancora di merda Metaforizzate Fatemi sapere Na 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 Well in the three